salve vorrei raccontare una storia avvenuta nel 2006 dopo aver fatto tante udienze tanti giudici tanti perché tanti controlli per l'affidamento quando lui aveva tre anni mi ricordo bene questo questi sono due brani inglesi che sono molto legato non è facile per me sentire ma mio pro cugino che avrò visto due volte in vita mia lui l'ha appunto fatto col pianoforte lui è un artista praticamente in famiglia siamo diversi anche se piccoli di età siamo diversi artisti chi con strumenti percussioni chi con la tastiera chi con lobo e insomma arroggiamenti da professionisti anche livelli buoni considerando l'età che sono piccoli ancora come nipote che ha già fatto concerti nei teatri e i miei cugini anche Gaia e Celeste e Luis e niente questo è un brano di King somewhere we used to know non è facile per me sentire ma lo faccio sentire non è difficile la gente mi ricordo è lui nel pulmai The Longue Land The Constituzio The Longue Land 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 Niente, qualche giorno fa mia madre mi manda un link dicendomi che mio cugino, mio pro cugino, Luis, è un artista a buoni livelli. Ma niente, vado sul link e ascolto proprio questa canzone, proprio questa canzone, interpretata da lui, ve la faccio sentire e poi c'è il commento.